Apertura, procedura di licenziamento collettivo per cessazione di attività e licenziano tutti i dipendenti. Il panno del Casentino, icona di tradizione e stile italiano nel mondo, rischia di sparire per sempre. Solo le istituzioni politiche, amministrative ed economiche possono risolvere un problema che un paese serio risolverebbe in 48 ore. Sono infatti partite le lettere di licenziamento indirizzate ai 18 dipendenti della Manifattura del Casentino di Soci, unica produttrice del panno. Iniziativa per noi sciagurata perché l'azienda sta andando benissimo, è veramente un paradosso dietro l'altro per un territorio che ha visto morire, sì, aziende abbiamo fatto tante procedure di licenziamenti collettivi perché andavano male, questa va molto bene. L'intenzione è farla saltare e chiuderla per questioni, voglio dire, per beghe, per così dire, immobiliari. A far rischiare di scomparire il panno del Casentino, un groviglio della burocrazia. Un territorio serio la ricchezza la deve saper, per così dire, intercettare, incoraggiare e quindi ampliare. Ecco, ma se si va dietro le logiche dei curatori, buonanotte, diventa un problema contabile per così dire. Mercoledì 3 agosto, assemblea dei lavoratori nello stabilimento di Soci. È ovvio che noi ci opporremo al massimo a questo stato di cose fino all'idea appunto di occupare l'azienda. Quando appunto faremo l'assemblea porteremo anche questa proposta, ma non occupare basta, non c'è da fare, voglio dire, la guardia al barile. Occupare per continuare a produrre, questo è il punto. Vogliamo continuare a produrre perché c'è lavoro, c'è lavoro perché questo prodotto è richiesto, perché il Made in Italy oggi ha fatto riportare all'interno dell'Italia tutto il manifatturiero che fino a ieri da sciagurati si era delocalizzato quasi completamente. Grazie. 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 Grazie.